Non posso citare location romane perché sarebbe conflitto di interessi, non citerò nessun film, cosa che mi sono ripromesso di fare quando sono presente all'anica, perché se cito uno e dico ma che bello quello, ce ne sono 99 che mi azzannano, no scherzano, non gradiscono. Allora, identifichiamo come location le ville di Frascati, Villa Aldo Brandini ma anche le altre, nelle quali molti film sono stati girati anche di recente, film d'avventura, film noir, film anche a carattere storico e questo sistema storico, ambientale, paesaggistico così eccezionale è un emblema di tante opportunità che è Lazio, basta sportarsi di poco, andare a Tivoli, verso Villa Adriana, Villa D'Este, Villa Gregoriana per capire quanto le possibilità di collocare un film o una serie in generale, anche la pubblicità, anche dei documentari, dei corti, tutti i prodotti dell'audiovisivo nel nostro territorio permette delle opportunità uniche al mondo.